Convocare subito un tavolo tecnico con le organizzazioni agricole, le AS, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, le università e i numerosi centri di ricerca del resto del paese. E' quanto chiede alla regione il presidente regionale di Confagricoltura Paolo Mele per rispondere all'emergenza determinata dalla scoperta in un allevamento di albus del primo caso in Europa di malattia morragica del cervo. In poche settimane siamo riusciti a collezionare tutte le peggiori emergenze di sanità animale dell'Unione Europea, dal serotipo 3 della Blutongue nel comparto vino su cui non esistono vaccini, al virus HD che determina il decesso dei bovini e di cui le pecore sono portatrici, passando per la viaria sbarcata nella colonia di volatili del parco di Monte Urpino a Cagliari. Un quadro potenzialmente devastante, sottolinea Mele, che rischia di mettere definitivamente a terra il comparto vino e soprattutto quello bovino col blocco sulle movimentazioni dei capi imposto al Ministero. Secondo Confagricoltura è fondamentale istituire un cordone sanitario attorno alla zona infeta con controlli a tappeto sulle aziende dell'area. Al contempo, conclude Mele, sarebbe importante raccogliere i più dati possibili dal selvatico con una serie di attività di sorveglianza passiva alla ricerca di carcasse da analizzare in laboratorio, da eseguire col personale il corpo forestale dell'Agenzia Forestas al fine di avere un quadro completo della situazione.